la prima cosa da fare è mescolare tutti gli ingredienti secchi quindi abbiamo 175 grammi di farina di avena un pizzico di sale la punta di un cucchiaino di pepe due cucchiaini di carvi o cumino dei prati diamo una prima mescolata a tutti gli ingredienti secchi ora aggiungiamo 40 grammi di burro e ci teniamo a portata di mano dell'acqua fredda il burro anche questo come vedete è freddo è ancora duro quindi andiamo ad impastare aggiungiamo un goccino d'acqua poco per volta ci aiuterà a far legare l'impasto potete utilizzare anche un robot da cucina e diventa più comodo più semplice ancora un boccino d'acqua molto friabile quindi tenere insieme il panetto non è facile vedete che si sbriciola tantissimo ma questo appunto renderà le nostre gallette estremamente friabili ok adesso lasciamo riposare per una decina di minuti dato che il mio impasto è rimasto un po' troppo friabile aggiungo un goccino di acqua calda che darà modo all'avena di legare ulteriormente il mio preparato per porridge è composto da fiocchi di avena abbastanza grossolani quindi anche un po' questo che rende faticoso l'assemblaggio degli ingredienti se voi usate un preparato per porridge più spezzettato ce ne sono un po' di tutti i tipi in commercio questa operazione diventerà molto più facile vedete comunque adesso comincia a diventare più colloso e quindi a stare un po' più insieme tutto quanto direi che così va decisamente meglio e adesso si lasciamo riposare ancora 5 minuti perfetto il nostro impasto ha riposato ancora un 5 minuti ed effettivamente guardate adesso sta molto più insieme dobbiamo iniziare a fare delle piccole palline che poi schiacceremo e metteremo su una placca sulla quale ho già messo la carta a forno prendiamo dei piccoli quantitativi di impasto li rogliamo tra le mani e li andiamo a premere leggermente un po' di farina sopra per fare più velocemente a schiacciarli prendiamo un bicchiere dal fondo bello piatto e un po' di farina una schiacciata giriamo premiamo ancora e via proseguiamo così fino alla fine del nostro impasto possiamo avvicinarli un pochettino perché tanto in cottura non si lasceranno andare molto eccoci qua vedete? bene le nostre gallette sono pronte per andare in forno ci vorranno circa 25 minuti a 180 gradi eccoci qua in forno per 25 minuti circa ci vediamo dopo eccoci con le nostre gallette di avena ora le prendiamo e le mettiamo a raffreddare su una gratella in modo che rimangano belle croccanti eccole qua e dato che sapete che io sono golosa e non riesco ad aspettare che si raffreddino adesso le faccio ventilare un pochettino ne prendiamo una e proviamo ad assaggiarla ah no scotta troppo devo aspettare ci vediamo dopo oh adesso si sono raffreddate super super non vi dico altro belle friabili con il carvi o comino dei prati che gli dà questo retrosapore delicatissimo e poi lo sapete che il carvi fa molto bene all'apparato digerente vero? ok adesso ne metterò un po' in questo contenitore perché se li mettete appunto in un contenitore a chiusura ermetica si conservano tranquillamente anche fino ad una settimana e oltre e gli altri invece vanno in quest'altro contenitore perché le gallette di avena sono un ottimo snack un rompifame anche a scuola o in ufficio quindi il back to school o back to office è pronto con le gallette di avena semplice no? se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale e clicca mi piace e ci vediamo al prossimo video io ora vi saluto e vado in ufficio ciao